Mercato Se Socrate andava al mercato per vedere la mercanzia a cui avrebbe rinunciato senza d'animo acrobazia, io ci vado a cuor beato, che sul cerco la frenesia di voci e colori l'afflato. In più, non son così virtuosa, ammesso che sia mala cosa lasciarmi tentare, golosa, da una voglia poco costosa.